Ad oggi non ci sono studi e ricerche scientifiche che diano un quadro chiaro e definitivo sugli effetti che il 5G avrà sulla salute di tutti noi. Quindi vale il principio di precauzione, soprattutto quando in gioco c'è il benessere e la salute di bambini, donne, uomini, anziani, insomma di tutti, tutti noi, nessuno escluso. Così Alessandro Lo Schiavo, capogruppo di opposizione del comune di Castellabate, in nome per conto dei consiglieri Marco Rizzo, Caterina Di Biasi e Luigi Maurano, in una nota stampa chiede provvedimenti in merito allo sviluppo della rete in fibra ottica e della tecnologia a banda ultra larga con annessa tecnologia CD5G. Nell'ottica di preservare il nostro territorio e soprattutto tutelare la salute di ogni singolo cittadino abbiamo inteso sottoporre all'attenzione del sindaco e dell'amministrazione comunale quelle che sono le nostre riflessioni, le nostre preoccupazioni sulla tecnologia del 5G e a tal riguardo abbiamo chiesto un provvedimento esemplare forse che passa attraverso un atto deliberativo di consiglio comunale o di giunta che categoricamente vada a vietare l'installazione di nuove antenne fissi o mobili da parte di operatori delle telecomunicazioni. Tutti ricorderanno di come qualche anno fa una importante compagnia telefonica sull'autorizzazione del comune è riuscita a mettere in un angolo suggestivo del nostro territorio un traliccio di oltre 20 metri su gomma, diventando contemporaneamente un emblema dello strapotere di queste compagnie telefoniche e soprattutto rappresentando uno scempio ambientale in una zona bellissima del nostro territorio. Quindi noi vogliamo che tutto questo non accada più e soprattutto scongiuriamo qualsiasi sperimentazione o attività che possa riguardare una tecnologia, quella del 5G, del tutto inesplorata, preoccupante per la salute dell'essere umano come dimostrato da tantissimi studi scientifici, non da ultimo quello della Commissione SHER, della Commissione Europea. E quindi ancora una volta quelle che sono le nostre preoccupazioni, che rappresentano le preoccupazioni della cittadinanza, vengono portate ufficialmente all'attenzione dell'amministrazione comunale auspicando che se ne faccia carico da subito e ne approfitto per chiedere al sindaco di adottare un provvedimento significativo attraverso l'organo, secondo me, maggiormente deputato per queste tematiche di ampio respiro, appunto il Consiglio Comunale, che dia linee di indirizzo chiaro agli uffici e soprattutto alle compagnie telefoniche di tenersi lontano da questo territorio.